Bira Pood Attraction 2024 continua e continua in bellezza, ci troviamo allo stand di Corrado Di Marco SRL, l'inventore della pinza, il prodotto che caratterizza l'italianità e siamo in compagnia del direttore commerciale dell'azienda Daniele Procaccini. Daniele, benvenuto. Grazie, grazie. Raccontaci in un minuto la splendida storia di questi oltre 60 anni della Di Marco SRL. È una storia che si può riassumere con tre elementi chiave. Il primo è l'idea originale che ha avuto Corrado Di Marco decenni fa di lavorare su un impasto che fosse leggero, croccante, super digeribile ma senza compromessi con il gusto. Il secondo elemento che io cito per spiegare la storia di Di Marco è le grandissime e uniche competenze che hanno saputo combinare una antica tecnica di levitazione naturale, che appartiene alla nostra tradizione, con tre differenti farine che sono le nostre caratteristiche, che sono le farine del grano, del riso e della soia. L'ultimo elemento che io cito e che spiega veramente bene il successo di questa azienda è la passione, perché ci è voluta tanta passione per riuscire a trovare quella formula perfetta che sapesse combinare tutte queste cose insieme e a portare alla creazione della originale pinza romana. Ed è proprio la passione che ha fatto iniziare questa attività come al solito, come le grandi storie e le grandi idee, quasi in uno sgabuzzino, per svilupparsi oggi con una distribuzione in oltre 60 paesi del mondo. Ma di questo magari parleremo tra pochissimo. Raccontaci intanto quali sono le novità che presentate qui a Beer and Food Attraction 2024? Beh, intanto fatemi dire che l'Oreca è veramente al cuore di questa azienda. Ancora oggi rappresenta il 70% delle vendite della nostra compagnia, per cui noi siamo qui per dichiarare questa la nostra passione. Poi noi abbiamo tantissime novità, presentiamo sicuramente il nostro sorriso, il nostro panino puccia, i nostri nuovi formati che hanno chiaramente il 100 grammi come mini o il 180 grammi per il formato classico, ma soprattutto vogliamo presentare e far capire a tutti i nostri potenziali partner e operatori nel canale Oreca l'assortimento completo che abbiamo a disposizione per tutti loro, capace di soddisfare tutti i loro bisogni. Raccontiamo dunque a questo punto qualcosa di te. Tu lavori da circa un anno con la Di Marco, sei direttore commerciale e viaggi tantissimo. Provini da esperienze molto importanti con la Danone con Mars Italia e oggi per te questa è una grandissima sfida. Sì, sì, diciamo che è proprio il gusto della sfida che mi ha portato ad essere qui oggi in Di Marco e sono estremamente felice. Si viaggia tantissimo, noi lavoriamo in 60 paesi come giustamente hai detto. Puntiamo ad aumentare ulteriormente il numero di paesi che tratta i nostri prodotti e soprattutto vogliamo rafforzare le nostre posizioni dove siamo già oggi, in particolare l'Italia che è il paese natio ed è per noi un motivo di orgoglio poter rafforzare e fare sempre meglio nella nostra casa. Io dico sempre che il cibo va guardato ma va soprattutto assaggiato e gustato e allora per poter guardare un po' più da vicino i vostri prodotti e quindi poi avere lo strumento per entrare in contatto con voi. Qual è la URL del sito attraverso il quale è possibile guardare tutti i vostri prodotti? Noi abbiamo il nostro sito chiaramente, la nostra home page, abbiamo tutti i social al nostro servizio su Instagram. Se voi cercate originale pinza romana Di Marco ci trovate sicuramente dovunque, siamo noi. Daniele grazie per la pillola informativa che è importantissima per poter riuscire a scoprire solo per coloro che naturalmente ancora non hanno assaggiato e provato i prodotti perché voi siete degli specialisti veri e propri del food service. Assolutamente sì, come detto l'oreca e il food service è veramente il cuore dell'azienda e noi ci siamo fortemente legati. Posso fare un appello? Allora io volevo dire semplicemente che, confessare, che ho una grande passione per la birra e devo dire che siamo nel posto giusto qua, assolutamente. Ma non c'è nulla di meglio di una birra, c'è solo una cosa migliore ed è gustarsi una birra insieme all'originale pinza romana. Bene, allora noi immediatamente dopo questa intervista ci proveremo. Daniele Petraccini, direttore commerciale di Corrado Di Marco SRL, grazie. Grazie a voi, grazie, grazie tante.